Buongiorno a tutti, purtroppo non posso essere con voi perché sono appunto a Bruxelles, però ci tenevo d'accordo con il professor Zoboli a vi un messaggio e a sottolineare quali sono un po' le peculiarità del mission board di cui sicuramente avrete parlato, però specificamente del mission board che ho l'onore di presiedere, cioè quello sul cancro. Avete visto, avrete visto che di fatto la quinta missione, quella sulla sanità, è specificamente dedicata a questa patologia e questo risulta da una survey che è stata fatta a tutti gli stakeholder in Europa, quindi ai cittadini, ai professionisti, alle imprese, alle istituzioni, da cui risulta legittimamente che questa è una preoccupazione importante. Il cancro sta diventando la prima causa di mortalità, già in alcuni paesi ha sapra avanzato le malattie cardiovascolari ed è destinata a diventare la prima in tutti i paesi e peraltro a crescere moltissimo anche nei paesi extraeuropei. Questo un po' per l'invecchiamento della popolazione, ma un po' perché effettivamente sta aumentando l'incidenza di questa malattia. Quindi è necessario, e per la prima volta forse nella storia dell'umanità, rendere possibile attraverso l'approccio di missione quello che è appunto la conquista di questa patologia, che passa attraverso una serie di azioni. Negli ultimi sei mesi con i colleghi del board abbiamo lavorato duramente e alla fine del mese produrremo il nostro discussion paper che proporrà una serie di azioni sostanzialmente in quattro domini. Tre pilastri, quelli della prevenzione, del trattamento e della cosiddetta survivorship, della qualità della vita delle persone che hanno avuto questa malattia o che ci convivono cronicamente, ma poi attraverso la ricerca, la comprensione, che è naturalmente trasversale a tutti questi tre pilastri, perché bisogna capire meglio perché non si riesce ancora a prevenire bene questa serie di patologie. Infatti se noi fossimo bravi dal punto di vista comportamentale, semplicemente modificando i nostri stili di vita e semplicemente agendo su quattro fattori di rischio, cioè quelli della eccessiva e cattiva alimentazione, quelli della scarsa o nulla attività fisica, quelli dell'eccessivo consumo di alcol e quelli del fumo di tabacco, potremmo limitare enormemente, potremmo arrivare a prevenire il 40% delle patologie oncologiche. Se a questi poi i meccanismi di prevenzione primaria aggiungessimo i meccanismi di prevenzione secondaria e di diagnosi precoce, ne potremmo prevenire altri 20, quindi arriveremo al 60%. Se poi riuscissimo ad agire anche sull'inquinamento atmosferico o su altri fattori di inquinamento ambientale, quali per esempio l'esposizione solare, ne potremmo prevenire altri 20. Insomma è una battaglia che è possibile fare se però lavoriamo tutti insieme. Nessun paese da solo ce la può fare, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme e su questo vediamo che c'è uno straordinario allineamento da parte della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, degli Stati membri e naturalmente di tutti gli stakeholder, di cittadini, dei pazienti, dei professionisti. Ed è per la prima volta un'altra cosa molto importante che si verifica, quella che cioè questo programma verrà co-creato, co-gestito e co-valutato insieme ai cittadini. Su questo stiamo elaborando strategie di coinvolgimento che vadano al di là di quelli che sono i meccanismi tradizionali, anche utilizzando la creatività e anche utilizzando i social media. Come voi avrete discusso, discuterete, il budget è importante, è spalmato su sette anni. Noi confidiamo che alla fine di quest'anno possiamo fornire alla Commissione gli strumenti attraverso cui mobilizzare questo budget e naturalmente confidiamo che l'Italia giochi un ruolo importante come possiamo fare sicuramente se ci organizziamo meglio e se questa informazione, come oggi all'Università Cattolica a Milano, viene disseminata e viene comunicata nella maniera più adeguata. Quindi buon lavoro e lavoriamo tutti insieme. Grazie a tutti.